Da Eroica Montalcino a Nuova Eroica il passo è breve, o forse no. Le biciclette d'epoca dell'Eroica e dell'Eroica di Primavera, il 17 luglio, hanno lasciato il passo alle gravel e a un mondo e un modo tutto nuovo di fare ciclismo sulle strade bianche in Toscana. La Nuova Eroica nasce per proiettare i valori e il popolo dell'Eroica verso il futuro, contaminando le nuove generazioni. Così, dopo le 160 dell'Eroica di Montalcino, sono state 121 le donne che hanno corso sui tre percorsi delle strade bianche e che hanno poi accompagnato i loro piccoli nell'Eroica Femini del 18 luglio. Un messaggio importante che la Nuova Eroica lascia ogni volta in eredità è quello che le donne e la famiglia possono essere elementi umani così moderni tali da rappresentare le certezze e i sogni del ciclismo del futuro. Un lungo viaggio alla scoperta del meraviglioso territorio attraversato dai 250 chilometri di percorsi permanenti delle strade bianche dell'Eroica, con la certezza che la Nuova sia sempre più donna, madre di un ciclismo che dobbiamo solo accompagnare attraverso le sue prime pedalate.